ciao a tutti benvenuti a questo momento di ascolto della parola del signore in questo momento di preghiera in questo martedì della terza settimana di questo tempo di quaresima come va la quaresima bene la stai vivendo bene male ecco importante che oggi il signore ci dona una parola il vangelo di oggi è tratto da matteo capitolo 18 versetti dal 21 al 35 parleremo sul perdono quanto è importante il perdono sentirti perdonato e perdonare poi parleremo su questo nel nome del padre del figlio dello spirito santo amen dal vangelo secondo matteo in quel tempo pietro si avvicinò a gesù e le disse signore se il mio fratello commette colpe contro di me quante volte dovrò perdonargli fino a sette volte e gesù rispose non ti dico fino a sette volte ma fino a settanta volte sette per questo il regno dei cieli è simile a un re che vuole regolare i conti con i suoi servi aveva cominciato a regolare i conti quando gli fu presentato un tale che gli doveva diecimila talenti poiché costui non era in grado di restituire il padrone ordinò che fosse venduto lui con la moglie i figli e quanto possedeva e così saldasse il debito allora il servo postrato a terra lo supplicava dicendo api pazienza con me e ti restituirò ogni cosa il padrone ebbe compassione di quel servo lo lasciò andare e li condonò il debito appena uscito il servo trovo uno dei suoi compagni che li doveva cento denari lo prese per il collo e lo soffocava dicendo restituisci quello che devi il suo compagno prostrato a terra lo pregava dicendo api pazienza con me e ti restituirò ma egli non volle andò e lo fece gettare in prigione fino a che non avesse pagato il debito visto quello che accadeva i suoi compagni furono molto dispiaciuti e andarono a riferire al loro padrone tutto lo accaduto allora il padrone fece chiamare quell'uomo e gli disse servo malvagio io ti ho condonato tutto quel debito perché tu mi hai pregato non dovevi anche tu aver pietà del tuo compagno così come io ho avuto pietà di te e sdegnato il padrone lo diede in mano agli aguzzini finché non avesse restituito tutto il dovuto così anche il padre mio celeste farà con voi se non perdonerete di cuore ciascuno al proprio fratello parola del signore il perdono dicevano i padri della chiesa che il perdono è come il respiro del cristiano il respiro aspirare ecco così al di dentro al di fuori ecco perché perché importante sentirte perdonato per perdonare nessuno da quello che non c'ha se tu non ce l'hai puoi dare una cosa che non ce l'hai allora ecco perché importantissimo parlare del perdono durante la quaresima perché questo un tempo di purificazione del cuore un tempo di conversione un tempo un tempo di di perdono per sentirti perdonato e per perdonare allora viene introdotta questa parabola sul servo spietato dalla domanda che fa pietro sapete che nella scrittura nell'antico testamento si parlava di caino sapete no caino fratello di abbele e di tanti altri che dio in certo modo parlando della vendetta parla parla anche la scrittura del perdono del perdono perché sete volte si parla di questa vendetta no di questa vendetta allora alla vendetta dio risponde col perdono ecco perché la domanda di pietro sapete che pietro pietro c'è il suo fratello no e se qualsiasi discepolo un apostolo o magari andrea suo fratello quante volte lo devo perdonare quante volte devi perdonare tu a uno che sta sempre a rompere la scatola che ne so quante volte lo devi perdonare o uno che ha un giudizio contro di te o uno che ti ha fatto del male eccetera eccetera quante volte pensate quante grande la misericordia del signore che per rispondere a questa domanda non solo dice 70 volte 7 che già è tanto è tutto sapete che il 7 nella scrittura è simbolo della perfezione quindi sempre devi perdonare ma per parlare e approfondire sul tema del perdono dice questa parabola dice parla del regno dei cieli che simile a un re che vuole regolare i conti con i suoi servi questo regolare i conti è una cosa molto importante perché in questo consiste la consiste la vita ci troveremo a regolare i conti con il signore ti chiederà il signore cosa hai fatto hai amato hai perdonato ti sei sentito perdonato perché ho inviato il mio figlio per il perdono dei peccati hai creduto a questo hai amato hai ricevuto questo perdono non per tenertelo per te se non per condividerlo per perdonare gli altri cosa hai fatto e allora viene a fare i conti come si dice no e c'è uno che c'è un debito con il re pensate un po io ce l'ho scritto qua per dire 10.000 talenti rappresentano una cifra sproporzionata che solo un re può possedere per dare un'idea un talento uno pensate che qui sono 10.000 talenti uno solo è pari a 6.000 giornate lavorative pensate 6.000 giornate lavorative 10.000 talenti 10.000 talenti e pari a 60 60 milioni di salari quotidiani pensate impossibile da pagare impossibile questo per per capire quanto è grande l'amore di dio e quanto è grande il nostro debito e quanto è grande l'amore che cristo ci ha rivelato perdonandoci allora tutto questo ci deve far pensare se veramente vogliamo vogliamo nella nostra vita vogliamo la immagine di dio essere immagine e somiglianza di dio un dio misericordioso un dio che ci ha amato tantissimo da da darci il suo proprio il proprio figlio per pagare un riscatto per la nostra salvezza questo lo diciamo lo sappiamo però magari con il nostro cuore indurito non non lo crediamo non lo crediamo pensiamo che il perdono sia una questione così umana semplicemente o dire vabbè mi dispiace o scusa no no il perdono è qualcosa di più grande un dono è un dono che viene da dio se tu non ti senti perdonato non perdonerai mai sarà solo un sentimentalismo un volta alla pagina come si dice no ma un perdono è una cosa seria il perdono è amare il perdono è amare come cristo ci ha amato e questa è la vita cristiana ecco perché i padri dicono che il respiro è la misura il termometro per sapere come va la tua vita cristiana come come il tuo cristianessimo perché puoi andare a messa però a che serve se tu non perdoni perché dobbiamo chiedere al signore l'autenticità la pazienza vera e l'amore le viscere di misericordia per avere pazienza col fratello perché ricordati sempre che si parliamo di dio parliamo di dio padre nostro non è un padre tuo da solo e quindi il signore ci invita la vera fratellanza quella che ci ha donato cristo gesù e benedica a dio onnipotente padre figlio e spirito santo a me bene invito a tutti quanti a lasciare le vostre prechiere qui sotto nella zona dei commenti ti costa perdonare fai fatica a perdonare lascialo lì lascia un commento dicendo sì mi faccio fatica non perdono è difficile eccetera eccetera ricordati sempre di lasciarci un mi piace e iscriverti al canale se non l'hai fatto ancora e di attivare le notifiche anche di condividere il link di questa pubblicazione di questo video un abbraccio a tutti una bellissima giornata grazie a tutti